Formazione online a cura del Placement Office Career Service dell'Università di Siena. Il colloquio di selezione. Solo il 10% delle candidature vengono portate fino al colloquio, quindi se sei arrivato fino a qui significa che hai già fatto una buona impressione. Siamo quindi a buon punto. Qual è l'obiettivo del colloquio? Il selezionatore dovrà valutare se il tuo profilo è adatto alla posizione, quali sono le tue competenze, come ti esprimi e se sei abbastanza motivato. Quindi praticamente se sei il candidato adatto per quella posizione, non è un giudizio sulla persona. Come ci si prepara a un colloquio? Bisogna rileggere con molta attenzione l'offerta per la quale ci si è candidati, studiare bene il profilo professionale, rileggere bene il curriculum vitae, portarlo con sé. Chiediti per quale motivo ti sei candidato e cerca di pensare a quali domande faresti tu per capire se un candidato è adatto per quella posizione. Preparati anche sulla persona che ti farà il colloquio, se sai il nome, oggi con i social network è molto facile capire che ruolo ha all'interno dell'azienda. L'azienda bisogna studiarla proprio con attenzione, le dimensioni, la storia, guardarsi le pubblicità se è un'azienda importante, quali sono i maggiori competitors, le sedi, dov'è, come è strutturata, quali sono i suoi valori soprattutto e le politiche aziendali. Per le aziende molto grandi e con un ufficio recruitment molto strutturato, spesso si trovano anche online video sulla candidatura, sul candidato ideale, eccetera, quindi è relativamente facile. Ricordati che il selezionatore non è un nemico, in quel momento siete sulla stessa barca, lui ha bisogno che tu sia il candidato giusto quanto te hai bisogno che quella sia il lavoro per te, quindi desidera che tu sia la persona adatta. Consigli generali, vestiti in maniera opportuna, in linea con il ruolo e con l'azienda, di solito nel sito dell'azienda si capisce l'immagine che hanno le persone che ci lavorano. Arrivando dai la mano in maniera ferma, sorridi e mantieni un breve contatto visivo. Pensa alla tua postura e al linguaggio non verbale. Non mentire, non parlare mai male, né in tono lamentoso, mai, questo mai, delle esperienze precedenti, né delle esperienze di lavoro, né delle esperienze di studio. Ascolta attivamente e fai domande per far vedere che sei motivato. Devi avere fiducia nella professionalità di chi ti sta facendo il colloquio. Quindi ogni domanda che ti fa o ogni prova a cui ti sottoponi, devi avere fiducia che serva per un motivo preciso e quindi affidarti in questo senso. La domanda più temuta è il mi parli di lei. Mi parli di lei è la prima domanda anche nei colloqui di gruppo, così come nei colloqui individuali. Quindi bisogna sicuramente prepararsi una breve presentazione. Iniziare dal percorso di studi in maniera sintetica e positiva, dalle esperienze lavorative più significative, anche il stagio ovviamente, le competenze più rilevanti che si ritengono più utili a quel ruolo e brevemente come è nato l'interesse per quel settore o per quell'azienda o per quel lavoro. Allora, qui ho messo alcune domande più comuni. Quali sono i suoi punti di forza? Sempre basta domandarsi perché il selezionatore sta facendo quella domanda. Quindi qui c'è scritto vuole sapere se sei la persona giusta per questa organizzazione. Quindi motiva, spiega, fai tanti esempi. Più si sta sul concreto, su esempi specifici e meglio è, più si è credibili. Quali sono i punti deboli? Lo stesso. Nel momento in cui ci si trova a descrivere qualcosa di negativo, bisogna sempre stare più sulla soluzione. Cioè, se io dico che mi manca, che un mio punto debole è la mia seconda lingua, però sto già facendo un corso per migliorarla. Quindi stare più sulla soluzione che sul problema. Questo anche quando si descrive un problema, un passaggio difficile, un cambiamento di lavoro, un cambiamento di università. Automaticamente verrà chiesto perché hai deciso di cambiare città, perché hai deciso di cambiare università. Cercate di stare sul motivo per cui avete scelto la seconda opportunità, più che sul problema, quindi sulla soluzione. Di essere quindi sempre positivi. Attenzione alle bugie. Spesso si cade anche sulle cose che sembrano dettagli, come gli interessi personali. Non dovete mentire nel curriculum, perché il selezionatore giustamente si sentirà autorizzato a farvi domande su ogni parola che c'è scritta nel curriculum vitae. Sul finire del colloquio spesso si chiede se il candidato ha delle domande ed è bene farle, essersi preparati a delle domande, perché indica motivazioni. Quindi domande pertinenti sul ruolo, sull'azienda. La chiusura del colloquio. Il colloquio finisce quando lasci l'edificio. Quindi sorridi, ringrazia, dai la mano con contatto visivo, chiedi pure quali saranno le modalità e i tempi di risposta, anche se normalmente questa è un'informazione che viene data dal selezionatore. Il Placement Office Career Service dell'Università di Siena è a disposizione per un servizio di simulazione di colloquio. Quindi potete mandare il vostro curriculum e una descrizione dell'azienda o del ruolo per cui volete simulare il colloquio a cristina.rubegni.unisi.it E normalmente il giovedì prenderemo un appuntamento per simulare il nostro colloquio individuale.